Incastonato in uno scenario di verdi colline sulle quali svetta Monteacuto, l'ambito dal Tevere che ne fa città d'acqua, il centro storico di Umbertide conserva ancora l'antico fascino del borgo medievale fortificato di Fratta, anche se nel tempo ha subito modificazioni. Piazza Matteotti, cuore amministrativo e commerciale del centro, ci accoglie con i suoi edifici storici, in particolare il Palazzo Comunale, già Palazzo Bourbon Mavarelli, la cui costruzione risale ai primi anni del Settecento. Al suo interno si possono ammirare le volte delle sale affrescate dal pittore perugino Montorsi e le sculture dell'Eugubino Viaggio Vantaggi. Da qui vie, vicoli, piazze e piazzette ci portano alla scoperta di angoli suggestivi. Piazza Fortebracci è uno di questi, con il Teatro dei Riuniti e l'imponente molle della Rocca. Il teatro è stato ricostruito nel 1808 nel luogo dove esisteva quello antico. Alla metà degli anni Ottanta, un'intelligente opera di recupero conservativo ha restituito alla città un piccolo gioiello, una bomboniera per attività culturali di grande respiro. La Rocca, superba fortezza medievale, la cui costruzione fu ultimata nel 1389, è il simbolo della città. È costituita di una torre quadrata di lato e di una torre alta 40 metri davanti al torrente Reggia, che anticamente scorreva sotto le mura che alla base hanno uno spessore di 2,20 metri. Si narra che nel 1394, nelle segrete di questo castello, fu rinchiuso prigioniero il famoso comandante di Ventura, braccio Fortebracci da Montone. I recenti lavori di sistemazione della piazza del mercato sotto la Rocca hanno riportato alla luce il basamento del ponte elevatoio della cosiddetta Porta del Soccorso. Di fronte alla Rocca, appena fuori dalle mura castellane, si erge l'imponente tempio ottagonale di Santa Maria della Reggia, la Collegiata, edificato nella seconda metà del secolo XVI in onore della Vergine Maria, patrona della città. Le vestigia della fratta medievale si possono scoprire in un affascinante percorso tra storia e ambiente, che partendo dalla rinnovata piazza del mercato sotto la Rocca, arriva fino al Tevere, costeggiando le antiche mura castellane lungo il parco della Reggia. Qui si può ancora ammirare il torrione di Porta Nuova, bastione di difesa sud-est sulle mura di fratta, alto 18 metri e costruito nel 1408, su cui è stata edificata nel 1870 una casa tuttora esistente. Alla fine del percorso ecco apparire il Tevere e sullo sfondo Monte Acuto e la collina di Romeggio. Alla sinistra del ponte anticamente esisteva una grande diga realizzata per alimentare a scopi difensivi il fossato della Reggia intorno alla cittadella fortificata di Fratta, diga di cui nei periodi di secca del fiume si possono vedere i resti dei pali di sostegno. Vi fu anche realizzata una pescaia per permettere ai frattigiani di approvvigionarsi con facilità del pesce del fiume che allora costituiva una fonte alimentare molto importante per la città. Alla destra del ponte un'altra immagine simbolo di un vertide, le antiche case del borgo costruite sopra le mura castellane e lungo il Tevere il campo di pesca sportiva nazionale che arriva fino alla foce del Carpina e che richiama ogni anno migliaia di sportivi appassionati della pesca da ogni parte d'Italia. Sull'altra sponda del fiume il parco Lido Tevere spazio verde attrezzato ricorda il vecchio Lido Tevere che aglietava le serate estive degli umbertidesi prima che alla fine degli anni 30 una violenta pina lo spazzasse via. Risalendo poi dal Tevere sul ponte del torrente Reggia si apre agli sguardi piazza San Francesco, la piazza più antica e più bella della città. Anticamente centro del borgo inferiore era famosa per le botteghe dei fabbri che lavoravano per tutta l'Italia centrale. Su di essa si affacciano alcune delle chiese più antiche di un vertide, Santa Croce, San Francesco e San Bernardino e l'ex convento di San Francesco con il suo stupendo chiostro. In fondo alla piazza la porta della camminella del 1613 che chiudeva a sud il baluardo di difesa sulla sponda sinistra del Tevere.